Musica Amici di Atisport24 bentornati Nuova puntata di 2 metri la palla notovista da vicino La Serie 1 maschile non si ferma neanche a Pasqua e nel turno prepasquale propone una sfida dal peso specifico cruciale nella lotta per la salvezza tra Rarinantes Salerno e De Hacker Bologna per parlare della formazione Felsinia torna a trovarci un amico della nostra rubrica e del nostro canale do il benvenuto all'attaccante Mancino del set allenato da Federico Mistrangelo Edo Manzi, ciao Edo, bentornato Ciao, grazie mille per l'invito Edo, facciamo però prima un passetto all'indietro andiamo a sabato scorso sconfitta interna per la De Hacker nel match disputato alla Carmen Longo contro la pallannuoto Trieste 9-6 per i Giuliani che dopo il punto del provvisorio 7-6 che se non sbaglio è messo dentro tu a metà terzo quarto riallungano nuovamente sul 9-6 e difendono il loro successo in un ultimo quarto insolitamente terminato a reti bianche come avete archiviato l'ultima sconfitta? Sabato scorso è stata una partita sicuramente molto fisica perché loro giocano una pallanuoto estremamente di altissimo ritmo e anche fisicamente hanno molti chili a loro disposizione ed è stata una partita che all'inizio poteva scivolarci dalle mani come poi è successo alla fine a Trieste e noi volevamo a tutti i costi evitare lo stesso tipo di partita e come hai detto tu siamo riusciti ad arrivare molto vicini con il 7-6 e poi ci è mancata quel qualcosa in più per riuscire a battere una squadra comunque del calibro di Trieste che senza nasconderci viaggia su classifica molto diversa poi dalla nostra e soprattutto è formazione che quest'anno ha sperato anche una finale europea no no infatti assolutamente quindi ti dico ogni squadra diciamo della classifica medio-medio-bassa è riuscita comunque a mettere in difficoltà squadra anche di caratura più grande proprio perché secondo me c'è un grande equilibrio nel campionato che fa sì che sia divertente tutto il campionato non solo la parte alta ma secondo me dal settimo posto in giù è una lotta comunque tutti contro tutti e tutti possono vincere con tutte quindi è quella la parte secondo me la parte bella Cosa vi è mancato per tenere il passo dei Giuliani nel momento chiave del match e magari uscire dalla vasca con almeno un punto? Ma in verità ripeto loro hanno impostato la partita su un ritmo molto 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 alto e come ho detto anche prima hanno una fisicità nettamente diversa dalla nostra quello ovviamente poi portato per la lunghezza della partita quindi per quattro tempi ci ha un po' messo in difficoltà e siamo stati un po' magari disattenti in attacco nell'ultimo nell'ultimo quarto perché finire un quarto zero a zero vuol dire che sì che si è riuscito a non prenderne da una squadra così forte però non è neanche fatti in un momento comunque delicato come quella partita sicuramente in attacco sia in superiorità ma anche a omeni pari potevamo essere un pochino più attenti per fare qualche gol in più e quantomeno portarci a casa un punto e tu hai citato la superiorità numerica allora vado un attimo sul tabellino ti chiedo in che misura ha inciso sulla vostra prova il 4 su 11 messo a referto con l'uomo in più ma purtroppo sono un paio di partite che che non riusciamo a a esprimere la nostra superiorità numerica come come abbiamo sempre fatto poi durante la stagione perché durante la stagione siamo sempre stati abbiamo sempre avuto ottimi numeri in questo fondamentale e da qualche partita è mancata un po' questa parte qua che abbiamo già già sistemato già stiamo lavorando tanto durante la settimana l'abbiamo parlato molto e per questo finale di stagione sicuramente dovrà dovrà tornare ad alti livelli come abbiamo sempre avuto avete avuto modo di confrontarvi con il vostro mister alla ripresa degli allenamenti ti chiedo quali sono le considerazioni emesse dal dialogo che avete avuto lunedì ma alla fine come ho detto anche prima vincere o comunque fare punti col Trieste ovviamente sarebbe stato molto utile per la classifica comunque sarebbe stato sicuramente importante però non sono quelle le partite che diciamo una squadra del livello nostro si aspetta di vincere o comunque di fare punti facili invece tutto cambia per le prossime due partite di tre che sono conclusive per la regular season che sono due scontri diretti entrambi fuori casa e noi dobbiamo puntare tutto su quelli lì perché sono due finali tolto l'orecco di mezzo sia col Salerno che con la Roma saranno due finali e ci dobbiamo concentrare su quelle perché è fondamentale la vittoria in entrambe le partite e allora ti sei proiettato allo sprint di fine regular season si parte dal match della Simone Vitale contro la CK per ari Nantes Salerno formazione che al momento è invischiata appieno nella lotta per i play out nonostante disponga di un potenziale che lo dicevamo a microfoni spenti sarebbe tranquillamente da prime 6-7 della classifica e il prossimo il vostro prossimo avversario in una sfida che amo spesso ripeterlo mette in palio 6 punti per quanto può pesare perché 3 di vinci 3 di togli al tuo avversario fatta tutta questa lunga premessa ti chiedo che partita ci aspettiamo sabato no hai detto benissimo tu è una partita fondamentale e sono come detto tu anche 6 punti ma non solo perché li togli a loro e li prendi tu ma anche perché in chiave salvezza diretta o comunque per provare a salvarci direttamente sono fondamentali noi per provare ad aggrapparci ancora per salvarci senza senza play out e invece per il Salerno perché come un'ipotetica vittoria contro di noi li proietterebbe davanti a noi di un punto quindi anche per la classifica sono punti pesanti da entrambe le parti quindi proprio per questo secondo me sarà una partita tesa sarà una partita comunque molto 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 accesa proprio perché in palio c'è tanto anche perché nella regular season ormai mancano tre partite e guardando anche il calendario di tutte sono per tante squadre per la lotta per la salvezza diretta sono tutti scontri molto molto importanti scontri diretti quindi sabato sicuramente sarà una partita molto tesa molto fisica con ritmi secondo me molto molto alti e dovremmo essere bravi a giocarci la viso aperto anche perché noi vogliamo questa vittoria fuori casa perché fino adesso fuori casa abbiamo ottenuto solo due pareggi se non sbaglio con Telimar e con colpo Zillipo quindi noi vogliamo assolutamente portarci a casa questi tre punti perché ci proietterebbero anche in una posizione leggermente diversa di classifica che ci darebbe quella quell'energia e quella forza per poi andare a Roma l'ultima giornata e dare battaglia anche lì va bene siamo così al termine della nostra chiacchierata ringrazio Edo Manzi come sempre per la sua disponibilità do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Edo grazie mille ciao a tutti